A palti truccati nei guai politici e imprenditori, 69 arresti stamane tra Napoli e il casertano coinvolto l'ex assessore al turismo Pasquale Sommese che si sente male all'arrivo dei finanzieri. Per l'accusa avrebbero favorito le ditte dei casalesi. Scioperi selvaggi autisti nel mirino, ancora una giornata di caos per i trasporti a Napoli. L'azienda NM invia al prefetto la lista dei autisti che si sono rifiutati di entrare in servizio. Astensioni irregolari, i conducenti saranno sanzionati. Molestie sui alunni, prof ai domiciliari, almeno 5 gli studenti in una scuola media di campagna nel Salernitano, vittime delle attenzioni del docente di musica di Eboli. L'inchiesta partita dopo la denuncia di un sedicenne vittima delle violenze. Gentiloni ad Avellino, le attese dei cittadini, confermata per domani la visita del premier in città. Prima una tappa nella periferia di Rione Parco, poi l'incontro sul lavoro al centro per l'impiego. Otto Channel seguirà l'evento in diretta. Sospetta meningite, psicosi a scuola, studenti e genitori in allarme al liceo artistico di Benevento dopo che una studentessa è stata ricoverata al Cotugno per sospetta meningite. La dirigente però rassicura prese tutte le precauzioni del caso. Nuovi bus navetta per salire sul Vesuvio, presentati stamane al castello Mediceo di Ottaviano. Quattro nuovi mezzi di trasporto che favoriranno un maggiore afflusso di turisti verso il gran cono del vulcano. La soddisfazione dei sindaci. E questi erano i titoli di oggi. Buon pomeriggio da Angelo Giuliani. Ben ritrovati con l'informazione regionale di Otto Channel News. In apertura gli appalti truccati a suon di mazzette. 69 arresti in campania tra imprenditori politici e anche docenti universitari. Ecco le gare nel mirino dell'antimafia. Arrestati sindaci nel napoletano e nel casertano per presunti accordi con il clan Zagaria. Tra gli arrestati c'è anche Pasquale Sommese, ex assessore regionale della giunta Caldoro. Sentiamo tutti i dettagli da Simonetta Iepariello. Le mani della camorra sui appalti pubblici in campania sono almeno 18 le gare che sarebbero state truccate per favorire i casalesi nella fattispecie il clan Zagaria. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha eseguito 69 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta condotta da un pool di 5 pm della DDA coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. I reati contestati sono corruzione turbativa d'asta e concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine ruota attorno alla figura dell'ingegnere Guglielmo La Regina, anche per questo è stata denominata The Queen, tra i destinatari dei provvedimenti imprenditori e tanti politici. Tra questi c'è il consigliere regionale del nuovo centrodestra Pasquale Sommese, ex assessore della giunta Caldoro, ritenuto dagli inquirenti colui che garantiva l'erogazione dei fondi regionali. Filo conduttore tra la prima parte dell'inchiesta, la faccendiera Loredana di Giovanni di Mugnano di Napoli, è nota per aver portato voti a Sommese ex assessore regionale e avrebbe consegnato proprio le tangenti ai politici. 18 i appalti al centro dell'inchiesta, tra cui i lavori alla mostra dell'oltremare e in vari comuni opere per una scuola, per l'azienda regionale diritto allo studio, la seconda università di Napoli. Sotto inchiesta anche l'appalto per un impianto di cremazione al cimitero di Pompei e per il nuovo museo archeologico di Alife. Poi c'è la riqualificazione di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. A questa gara è dovuto il riferimento alle accuse rivolte all'ex sindaco della città vesuviana Giorgiano. Indagato in qualità di ex presidente dell'Ordine degli Architetti di Caserta, anche il sindaco di Aversa Enrico De Cristofaro espunta anche il nome di Daniele Maramma, il presidente della fondazione del Banco di Napoli. Ai domiciliari c'è anche Adele Campanelli dalla 2010 alla guida della sovrintendenza archeologica. Le reazioni si distingua la sana politica dall'illegalità, così il consigliere regionale del PD Mario Casillo commenta l'operazione The Queen e in particolare l'arresto dell'ex assessore sommese. Un terremoto giudiziario, quello che si è abbattuto stamani in Campania. Appalti, mazzette e camorra, lo sconfinamento nell'illegalità smascherato dalla Guardia di Finanza che tra le province di Napoli e Caserta ha portato a ben 69 misure cautelari. Anche arresti eccellenti come quello del consigliere regionale Pasquale Sommese, per il quale i magistrati ipotizzano un ruolo strutturale all'interno del sistema teso all'affidamento di incarichi inerenti la realizzazione di opere pubbliche a società amiche. L'ex assessore regionale beni culturali avrebbe avvertito un malore al momento dell'arresto questa mattina. Secondo l'ipotesi accusatoria Sommese si sarebbe prodigato per garantire, tra le varie cose, il finanziamento dei lavori di riqualificazione al liceo Medi di Cicciano, opera pubblica progettata da un imprenditore a sua volta indagato. La direzione investigativa antimafia più volte nell'ultimo anno ha visitato gli uffici del comune di Cicciano acquisendo la documentazione relativa agli interventi presso la scuola. Sulla vicenda giudiziaria intanto si registrano le prime reazioni, come quella del consigliere regionale del Partito Democratico Mario Casillo. Massima fiducia nella magistratura che faccio il loro corso. È evidente che da parte nostra si cerca sempre di tenere quanto più alta è possibile la sticella della legalità, perché la cosa che lo dico da politico e che vedo oggi girando in giro e parlando con i cittadini che oggi le persone sempre più hanno sfiducia nella politica, pensano sempre che tutti i politici siano uguali e che qui diciamo siano tutti quanti e che ci sia sempre una fonte diffusa di corruzione. Invece la politica non è così, c'è anche una sana politica e noi dobbiamo far sì che questa sana politica emerga e esca fuori. Cambiamo argomento. Aveva pubblicato su Facebook un post con su scritto Forza Etna, Forza Vesuvio e Forza Marsilia, augurandosi una catastrofe naturale nel centro-sud dell'Italia. Ora Donatella Galli, consigliera della Lega Nord di Monza, è stata condannata a 20 giorni di reclusione e a un euro simbolico di risarcimento perché propagandava idee fondate sulla superiorità raziale ed etnica degli italiani settentrionali nei confronti dei meridionali e perché commette vatti di discriminazione raziale fondata su tale presunta superiorità. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Monza a denunciare la leghista, l'avvocato napoletano Angelo Pisani che commenta, non è fomentando le piazze che si contrastano i salvini di turno ma solo con la cultura e il dialogo, è quando necessario dentro le aule di Tribunale. I trasporti, si ferma lo sciopero a Napoli e la Commissione di Garanzia punisce i lavoratori che hanno protestato in attesa che il Comune di Napoli approvi oggi il nuovo piano industriale dell'ANM. La protesta dei lavoratori del trasporto che ha bloccato Napoli e provincia per circa 5 giorni avrebbe violato la normativa sugli scioperi e dunque i dipendenti di ANM, CTP e i loro rappresentanti sindacali saranno sanzionati. Una decisione assunta dalla Commissione Nazionale di Garanzia Scioperi che ha finito per inasprire il confronto e la rabbia dei lavoratori, in particolare per quelli del CTP. Sono stati 4-5 giorni di protesta radicale, anche momenti di tensione molto forti, alcuni operai sono saliti sui tetti, altri sono rimasti qui in presidio a dormire, vediamo ancora la struttura dei Vigili del Fuoco. È servito tutto questo? Sicuramente, sicuramente è servito e ha fatto in modo che il problema venisse sollevato. Il prefetto che ha già stato un pochettino la trattativa è intervenuto e quindi nei prossimi giorni, però molto probabilmente, diciamo molto probabilmente perché non c'è certezza, verranno pagati anche gli stipendi. Intanto approderà in giunta al Comune di Napoli questo pomeriggio il piano industriale per il risanamento e il rilancio dell'azienda della mobilità che ha oltre 30 milioni di euro di debiti. Il Comune di Napoli accompagna questa vendita libera, aumentando con un aumento di capitale dell'azienda NM di circa 65 milioni di euro, trasferendo dei beni comunali per l'azienda e più 12 milioni di euro sono previsti in prospettiva di incrementare questo trasferimento e si impegna per il triennio 2017-2019 a trasferire per l'azienda un corrispettivo di 54 milioni di euro all'anno più 3 milioni di euro per le manutenzioni. Questo è per testimoniare il grande impegno del Comune per la mobilità dei cittadini e per l'azienda. Quindi quello che sta succedendo è intollerabile. Atteggiamenti confidenziali fino a palpeggiamenti inguinali. Molesti e che i ragazzi di una scuola media di Campania nel Salernitano hanno tenuto nascosti fin quando un sedicenne abbordato su un autobus che collega il centro della Piana del Sele a Campania ha denunciato tutto ai carabinieri. E da lì si è scoperchiato il vaso di Pandora con altri 4 ex-alunni che hanno raccontato le proprie esperienze vissute tra quei banchi di scuola che nel frattempo avevano lasciato. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare disposto dal GIP nei confronti di un insegnante 44 anni di musica. Per lui l'accuse di violenza sessuale su minore ed ora si trova ai domiciliari. Le indagini partite dopo la denuncia del coraggioso sedicenne hanno ricostruito una serie di atteggiamenti che sarebbero andati avanti da diversi anni. Nei prossimi giorni il professore sarà interrogato per fornire la propria versione dei fatti. Domani ad Avellino arriva il premier Gentiloni. Noi seguiremo in diretta la visita del presidente del Consiglio su 8 Channel 696. Intanto però le attese dei cittadini tra speranze e scetticismo. Sarà una mattinata particolarmente intensa per il premier Paolo Gentiloni. Quella di domani ad Avellino arriverà alle 9.30 al comando dei Vigili del Fuoco. Poi tappa a Rione Parco, una delle periferie oggetto dello stanziamento di 18 milioni per la riqualificazione. Poi focus sul lavoro al centro per l'impiego di Contrada Baccanico che per l'occasione si rifà il look e dove stamattina sono spuntati anche vasi con fiori. Intanto sono le più disparate le richieste che gli avellinesi rivolgono idealmente al presidente del Consiglio. Deve fare qualcosa pure per i bimbi perché sopra le periferie, i parchi, i giochi per i bimbi non ce ne sono, dobbiamo scendere da Avellino. Una casa e un piccolo sussidio per andare avanti giorno per giorno. Molta cultura per i ragazzi, apertura di spazi culturali che per il momento sono chiusi. Cerchere di sfuggirlo. Non ci voglio parlare alle persone, ci voglio vedere le cose dove stanno. stanno lamiando come per vedere i bimbi dove vivono. E di passaggio arriva, saluta e se ne va. Io abito proprio dove c'è problemi, giù alla ferrovia, stanno dicendo a poi, a poi, a poi e quando finirà questo stazio? Troppi, troppi estracomunitari e questo è proprio, un po' più di ordine, che non siamo più sicuri. Gentiloni è bene che se lo mette nella mente, che Avellino, la sua casa, non guarderà in faccia a nessuno, che saranno dati questi soldi e non vediamo l'ora per poter fare giustizia nei confronti della condanna data ad Avellino. A Benevento ora, studenti e genitori in allarme al liceo artistico. Ad una delle studentesse è stata diagnosticata una sospetta meningite. La dirigente però rassicura prese tutte le precauzioni del caso. Maria Teresa De Lucia. Sospetta meningite. È questa la diagnosi che ha allarmato la comunità scolastica del liceo artistico di Benevento. Una diagnosi effettuata dal Cotugno di Napoli su una studentessa della quarta classe che sabato è stata ricoverata presso l'ospedale napoletano. La notizia ha diffusasi velocemente tra gli alunni e allarmato genitori e personale, docente e non docente dell'istituto. Ma la dirigente della scuola di Via Tiengo rassicura. Nella giornata di lunedì mattina abbiamo saputo che l'alunna aveva avuto un problema e immediatamente l'ASL è stata contattata. La scuola ha messo a disposizione i nominativi degli alunni della classe in cui l'alunna era presente e gli alunni hanno tutti quanti potuto fare una profilassi. Per il resto l'ASL ha assicurato che si può continuare regolarmente a svolgere le lezioni. Gli alunni delle altre classi che non hanno avuto contatti stretti e continuati non devono temere nulla, non c'è necessità di provvedere alla disinfezione degli ambienti. I ragazzi sono stati rassicurati, capisco che ovviamente per tutti c'è un momento di preoccupazione, soprattutto per la ragazza. Andiamo a Salerno, ora bisogna recuperare i ritardi e c'è tanto lavoro da fare, ma si rema tutti nella stessa direzione. Così il consigliere regionale Luca Cascone sulle tensioni riguardo all'aeroporto di Salerno. Fra due giorni l'Assemblea dei Soci, intanto l'Enac pubblica i dati, al costa d'Amalfi un volo ogni cinque giorni. Giovanni Battista Lanzilli. La resa dei conti è in programma fra due giorni quando è convocata l'Assemblea dei Soci che servirà a fare finalmente chiarezza. Sono giorni particolarmente concitati per l'aeroporto di Salerno, il cui destino è appeso ad un filo. Nei giorni scorsi il presidente Antonio Ferraro ha fatto chiaramente intendere che senza un cambio di passo è pronto a passare la mano alla guida della società di gestione. Polemiche rintuzzate dal governatore De Luca che ha sottolineato gli sforzi economici della regione per recuperare i tanti anni perduti e rivendicati con forza anche dal consigliere delegato ai trasporti Luca Cascone. Io credo che si sta facendo un lavoro da mesi di programmazione molto molto importante. Non dimentichiamo che l'aeroporto ha partecipato anche al fondo di rotazione regionale per vedersi finanziato le opere di progettazione inerente agli interventi importanti che ci consentiranno di completare ovviamente l'aeroporto e renderlo finalmente operativo con una pista di oltre 2000 metri. Ho saputo e ho sentito di un po' di fibrillazioni ma credo che siano normali perché dopo tanti anni in cui si è perso tempo e risorse oggi si stanno decidendo cose importanti per il futuro di queste infrastrutture e del nostro territorio. Quindi credo che da qui all'assemblea di venerdì 17 riusciremo a ritrovare l'armonia necessaria per far sì che gli obiettivi che il presidente De Luca ha messo in campo e che vogliamo raggiungere saranno portati a termine. Che ci sia tanto lavoro da fare è indubitabile come dimostrano del resto i dati dell'ENAC sui traffici aeroportuali, il costa da Amalfi e in fondo alla classifica nazionale al 39esimo posto preceduto solo dagli scali di Bolzano, Grosseto e Foggia. Anche se, in una nota stampa, l'amministratore delegato dell'area tecnica, l'ingegnere Antonio Ilardi, rivendica un aumento di movimenti del 10% rispetto all'anno precedente e di ben il 300% per numero di passeggeri. Un altro blitz al comune di Salerno a presentarsi negli uffici di Palazzo Guerra. Questa volta sono stati i finanzieri del nucleo tributario in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Cesena Forlì. Al setaccio, ancora una volta, alcuni incartamenti relativi alle società partecipate dell'ente salernitano. Le fiamme gialle hanno acquisito documentazione presso l'ufficio delibere del comune. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma secondo alcune indiscrezioni sotto la lente di ingrandimento sarebbe finita una delibera consigliare dello scorso mese di dicembre relativa alla società Salerno Energia. Già nelle scorse settimane la DDA aveva acquisito ulteriori incartamenti relativi alle cooperative e alle società partecipate. Molte pazze ad Avellino, i cittadini invadono il comando della Polizia Municipale. È stata una mattinata ad alta tensione. Andrea Fantucchio. Siamo di fronte al comando dei vigili urbani di Avellino. Questa mattina c'è stata una vera invasione dei cittadini che si sono visti recapitare multe del 2012 già pagate. Sono stati rimpallati fra gli uffici di Equitalia e poi qui dal comando della Polizia Municipale. Inutilmente abbiamo provato a chiedere spiegazione al comandante della Polizia Municipale, Michele Arbonio, non c'è stata data risposta. Allora abbiamo ascoltato proprio loro, i cittadini. Circa 600 euro avremmo dovuto pagare se non avessimo trovato le ricevute. 2012, 52 euro e me l'hanno mandato di 166 euro. L'Equitalia dà la colpa al comando dei vigili perché dice che non gli hanno mandato le cartelle. Non è vero, perché altrimenti non potevano fare la notifica. Loro dicono che i bollettini non sono arrivati dalla posta e non si capisce da dove nasce il problema originario. Devo pagare 166 euro, però poiché non ho la ricevuta mi tocca di pagare. Nel 2012 52 euro e adesso l'importo mi è arrivato a 166,67. Quindi dovrò fare una fila di due ore qua quando una cosa che io già ho pagato. Hanno detto solo il mercoledì, sono venuto oggi e questa è la gente che sta qua con uno sportello. Vedete voi se si può fare questa vita. Ma io perché devo dimostrare che ho pagato e non l'oro a controllare e a fare il proprio dovere? Quante volte sono venuta e non c'ero nessuno? Mi hanno mandato mercoledì, mercoledì, ma perché? Perché sono un giorno? Gli altri giorni che cavolo fanno? Presunto caso di mala sanità a Salerno. Una diagnosi sbagliata è costata ad una diciottenne. Parte dell'intestino scatta la querela dei genitori. Imputazione coatta per due medici. Sentiamo. Non sarebbero stati in grado di diagnosticare una semplice appendicite scambiandola per banali dolori mestruali e casando a una ragazza di 18 anni problemi tali da rendere necessaria la resezione di parte dell'intestino. Il gruppo del Tribunale di Salerno ha così disposto l'imputazione coatta nei confronti dei sanitari che hanno avuto in cura la giovane. Un medico del 118 e il medico di famiglia della diciottenne. Se ne è discusso ieri un'odienza e oggi ci sarà la decisione del gruppo Maria Zambrano su un eventuale rinvio a giudizio per colpa medica. I fatti risalgono al 13 febbraio del 2014 quando la giovane si è sentita male in casa accusando forti dolori al ventre con febbre alta, vomito e diarrea. I familiari preoccupati dalle sue condizioni, aggravate anche dal ciclo mestruale, hanno chiamato la guardia medica per sollecitare un intervento domiciliare. Il medico però gli ha consigliato di chiamare direttamente un'ambulanza perché meglio attrezzati. Alla ragazza è stata quindi diagnosticata una semplice sindrome influenzale associata alle mestruazioni e l'estata somministrata a una flebbo in dovena. Il quadro clinico della giovane è però peggiorato nei giorni, tanto da chi chiedere un nuovo intervento del medico di base che ha ritenuto però inutile visitarla. A farlo un medico amico di famiglia che ha consigliato il ricovero in ospedale al Ruggi dove l'è stata diagnosticata un'appendicite acuta. La diciottene è stata in seguito operata in una clinica privata a Roma. Ormai però il quadro clinico era peggiorato, da qui la querela dei genitori nei confronti dei medici salernitani. Presentati ad Ottaviano i nuovi mezzi della Busvia del Vesuvio. La soddisfazione dei sindaci così si favorisce la crescita del turismo. Rocco, fatti bene. Al Palazzo Mediceo di Ottaviano, sede del Parco Nazionale del Vesuvio, sono stati presentati questa mattina i nuovi mezzi della Busvia che opereranno il servizio di trasporto verso il Gran Cono attraverso la strada Matrone. I nuovi mezzi sono il frutto della collaborazione dell'ente parco con la città metropolitana di Napoli che ha finanziato l'investimento. Il servizio partirà proprio oggi e porterà i turisti appunto dal lato boschese fino al Gran Cono quindi dove potranno effettuare la visita al Gran Cono e poi riscendere attraversando anche la strada Matrone che è una strada estremamente panoramica e bellissima e suggestiva. Alla presentazione dei nuovi mezzi di trasporto erano presenti numerosi sindaci dell'area vesuviana che hanno colto l'occasione per richiedere nuovi interventi a sostegno del turismo locale. Il Vesuvio accoglie migliaia di turisti ogni anno ed è bello offrirgli un servizio adeguato. La sostenibilità è il futuro e il Vesuvio deve essere considerato un'occasione eccezionale per lo sviluppo non soltanto economico delle nostre terre ma anche per lo sviluppo sociale. Speriamo di poter inaugurare la grande area di accesso al Vesuvio, l'area di stazionamento anche di questi bus turistici che sarà a tre case con il progetto che sarà finanziato dal grande progetto Pompei. E' chiaro che noi con la Busvia a suo tempo in convenzione decidemmo di fare una sosta della Busvia vicino al nostro antiquarium che io ricordo sempre che è l'unico museo dell'area pompeana. Ci sono tutte le condizioni finalmente per sviluppare questo parco nazionale di Vesuvio, questa bellezza unica al mondo. E' cominciata oggi nel Sannio l'era di Aldo Policastro, nuovo procuratore della Repubblica di Benevento. Si è insediato questa mattina a Palazzo di Giustizia. Si è insediato questa mattina il nuovo procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro. Accolto dai magistrati dell'ufficio inquirente Sannita, il dottore Policastro accompagnato dal procuratore aggiunto Giovanni Conso si è insediato dinanzi al presidente del tribunale, Marilisa Rinaldi. Questa sarà una procura aperta, ha ribadito più volte il neoprocuratore. Devo dire un bel impatto, ho avuto un'accoglienza veramente eccezionale, un'apertura e una disponibilità da parte dei colleghi del tribunale eccezionale. Mi incontro in questo territorio felice di esserci, felice di dare il mio contributo, farò quello che posso, con una grande disponibilità verso la città, verso i colleghi, in tutte le esigenze e anche verso la stampa, che rispettiamo, ha una funzione importante e che cercheremo di, nell'ambito dei limiti che ci impone la legge, di rispettare, da essere leggibili sempre. Io credo in una procura aperta, una procura che parla, che dialoga, Una nave container partita dalla Sicilia che trasportava 110 kg di droga, maxi sequestro della finanza al porto di Salerno, in manette quattro persone che operavano sull'asse Italia-America del Sud. Ben 110 kg di cocaina intercettati dai finanzieri stivati a bordo della motonave Brussels, intercettato qualche giorno fa al porto di Salerno, e che hanno portato all'esecuzione di quattro ordinanze cautelari, di cui tre eseguiti in Italia ed un'altra in Spagna. Il blitz della direzione distrettuale antimafia di Catania, nell'ambito dell'operazione denominata Narcos, ha portato al sequestro di polvere bianca per un valore di circa 14 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno inferto un duro colpo al sodalizio criminale operante tra Sicilia, Campania, Lazio, Sardegna, con propaggini in Spagna, Colombia ed Ecuador. Un fiorente traffico di droga sulla rotta Italia-Sud-America. In manette sono finiti il napoletano Vincenzo Civale, che aveva i contatti con i narcotrafficanti, ed i palermitani Antonino Lupo e Antonino Catalano, oltre ad un basista residente in Spagna. Il sequestro al porto di Salerno sarebbe arrivato per un banale errore da parte del sodalizio criminale, che avrebbe confuso la destinazione con quella di Palermo. Secondo gli investigatori, infatti, la droga era destinata al mercato siciliano. Ma la DDA ritiene che altre spedizioni erano pronte a partire con destinazioni Livorno e Genova. Il blitz scattato al porto di Salerno potrebbe dunque essere solo il primo step di un'operazione più ampia. Per testare la propria affidabilità nei confronti dei narcotrafficanti, le quattro persone finite nel mirino della DDA avevano organizzato un trasporto pilota, nascondendo la droga all'interno di carbone vegetale in polvere, che sarebbe poi stata estratta con un ulteriore procedimento chimico. Di nuovo in Irpinia per parlare di lavoro. Il futuro dell'Elital non può essere con la famiglia pugliese. Ora sindacati e lavoratori vanno in pressing sul Ministero per cercare un nuovo acquirente. Fumata nera nel vertice in prefettura d'Avellino per il futuro dell'Elital di Piano Dardine. Non ci sono i margini per proseguire con la famiglia pugliese dopo che il Tribunale ha dichiarato il fallimento. Questa presunta commessa in Libano, sbandierata da pugliese, resta un mistero e allora l'unica via percorribile domani in una riunione al Ministero a Roma sarà trovare un possibile nuovo acquirente. L'azienda proprio con l'oro legale hanno detto che non c'è più la possibilità perché secondo me non hanno neanche quella commessa con il libanese. Però era questa la società. Quindi è rimasto solo l'ipotesi di trovare un nuovo acquirente. Io gli ho prospettato, così come è stato fatto nel 2005, di darla gratis anche con 14 milioni di euro. Quindi ci trovano parecchi imprenditori in questo modo, come l'ha avuta Pugliese. Pugliese non ha cacciato una lira e ha avuto anche 14 milioni di regali. Questa è una settimana cruciale dove i lavoratori o verranno licenziati o stanno ancora in sospesi, quindi non avranno sussidio. E noi vogliamo capire, anche se verranno licenziati, qual è il futuro di questo stabilimento passando anche per altri imprenditori. Quindi domani, sempre con l'aiuto del prefetto, chiederemo anche al Ministero se ci sono altri imprenditori che vogliono rilevare lo stabilimento. Perché è appetibile un stabilimento nuovo che possa funzionare sia con i pannelli solari che con altre missioni produttive. Con la curatela fallimentare abbiamo discusso eventualmente dell'incontro che avremo domani al Ministero. Perché l'incontro domani al Ministero vorremmo capire da parte del Ministero se c'è la possibilità che un imprenditore possa eventualmente presentare un piano per rilanciare la Elital, anche con attività produttive diverse. Studenti in protesta, questa mattina a Benevento il collettivo autonomo si è riunito per mettere in evidenza le criticità del programma di alternanza scuola-lavoro. Studenti in assemblea questa mattina a Benevento. In Piazza Torra i ragazzi si sono riuniti per discutere delle criticità del programma di alternanza scuola-lavoro. Il sistema obbligatorio per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori è una delle innovazioni più significative della buona scuola. Attraverso l'alternanza gli studenti dovrebbero svolgere un monteore obbligatorio di formazione diretta presso imprese e aziende. Un'iniziativa che però non soddisfa gli studenti. In realtà parliamo di ore in cui gli studenti vengono deprivati del diritto allo studio, vengono costretti a lavorare gratis all'interno delle aziende, delle fabbriche. Abbiamo visto che sono stati eclatanti i casi della McDonald's o dell'autogrill. Molti ragazzi invece vengono mortificati proprio nell'intelligenza perché sono costretti a dover completare queste ore sprecando il loro tempo o magari facendo attività completamente inutili. Addirittura prima una ragazza raccontava del programma della sua alternanza che da ora fino al 15 giugno, due volte a settimana, dovrà arrecarsi all'archivio di Stato per cercare per tre ore ogni volta quello che sono i suoi parenti e il suo albero genealogico. Capiamo bene che può essere una cosa interessante, però capiamo bene che farlo da ora fino al 15 giugno è il tempo durante il quale potrebbero imparare realmente qualcosa. L'obiettivo dell'Assemblea di oggi è far uscire un documento che racconti l'alternanza con la voce dei protagonisti Ha firmato in regia questa edizione del telegiornale Aldo Fenizia io mi fermo qui, adesso è il meteo, poi a seguire il Tg Sport. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!